Tanto tempo fa in una galassia lontana, lontana... Sì, il dono, avete presente? Sì, insomma, era il prescelto. Così lo presero con loro mentre arrivava un cattivo. Ma riuscirono a scappare. Andarono a Coruscant a cercare aiuto. Ma lì non facevano altro che parlare. E così andarono a salvare il pianeta in prima persona. Arrivati! Ci fu una grande battaglia. Il ragazzo fece saltare tutto... E sconfissero il cattivo. Saldi sul signore dei Sith, metà prezzo! Poi fecero una grande festa. Dov'è la festa? Il ragazzo crebbe e divenne un Jedi. Conobbe una ragazza che in realtà era la regina. Ma c'era chi voleva eliminarlo. Ci fu una mega caccia e poi lui e lei andarono in vacanza. Nel frattempo il Jedi incontrò un cacciatore di taglie e suo figlio e i suoi cloni. Il ragazzo tornò nel deserto e perse la festa. Ma la ragazza lo amava ancora. Poi andarono tutti in un altro deserto. Ma quella non fu una grande idea. Poi arrivarono i loro amici a salvare la situazione. Sfortunatamente i cattivi erano tanti. Ma fortunatamente i buoni avevano tanti e tanti cloni. Ci fu una mega battaglia. E poi... Davvero? Il piccoletto verde si scatenò letteralmente. Ma i cattivi fuggirono. Lo voglio. Lui e lei si sposarono. Poi ci furono due guerre dei cloni. E una mega battaglia nello spazio. Una spadata così! Una spadata cos'ha! Poi il ragazzo sconfisse uno dei cattivi ed ebbe una sorpresa dalla ragazza. Il Jedi trovò un altro cattivo. E il ragazzo un nuovo padrone. Che era uno cattivo. E poi ci furono i ucchi. Ma poi successe una brutta cosa. E una cosa ancora più brutta. E una cosa più brutta ancora! Il ragazzo era messo davvero male. Ma il suo nuovo capo lo rimise in sesto. Si fa per dire. E anche se le cose sembravano messe maluccio, ci fu una nuova speranza per la galassia. Fine. E anche se le cose sembravano messe maluccio,